Buon pomeriggio a tutti. Apriamo quest'ultima sessione di lavori per oggi. Mi permetto solo una considerazione telegrafica come vice coordinatore del dottorato di ricerca di scienze giuridiche qui a Bicocca. Sono estremamente felice di questo momento, anche della riuscita di questa prima giornata. Sono diversi mesi che stanno lavorando, se dicessi che stiamo lavorando esagererei. Hanno lavorato tantissimo i nostri dottorandi per questo evento. Aggiungo solo che leggendo anche il programma di questo quarto panel che devo coordinare, sono stati aiutati se vogliamo perché si ha la netta sensazione che stiamo vivendo in un'epoca in cui ci sono dei passaggi che renderanno tutto ma fin dalle fondamenta diverso e quindi tanti settori saranno non rivoluzionati ma saranno qualcosa che a volte è difficile anche immaginare e in questo scenario la regola, il diritto diventa qualcosa a mio avviso di fondamentale anche per la tutela della persona. Lo vedremo anche poi a seguire, quindi la sfida è aperta. Discuteremo insieme con Andrea Monesiglio, vedete dal programma la giustizia previsionale nel processo civile, il principio di non esclusività, il dottor Andrea Monesiglio di Bicocca, giochiamo in casa, poi avremo il dottor Antonio Borghetti, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo tributario alla ricerca della vera evasione, il dottor Borghetti dall'Università di Brescia, ancora il dottor Matteo Paolanti, l'uso dei sistemi automatizzati nelle corti costituzionali, quali prospettive per la giustizia costituzionale? Dall'Università di Siena, il dottor Filippo Bordoni, diritto al lavoro e automazione in fase preassuntiva, torniamo in casa qui all'Università di Milano Bicocca. Vi ho letto l'ordine come da programma nel panel, proprio perché a mio avviso è importante in questo momento e visto anche il taglio multidisciplinare che vedete, è importante poter aprire alla discussione e anche confrontarci con varie voci e anche con le specificità delle singole materie, quindi ho invitato anche qualche collega delle diverse materie per poter telegraficamente però chiacchierare insieme. I colleghi Marta Giacconi e Simone Varva che insegnano diritto del lavoro qui avranno poi piacere un attimo di interloquire rapidamente con Filippo Bordoni nell'ambito del diritto del lavoro, per cui invertirei l'ordine che vi ho appena detto e darei subito la parola a Filippo Bordoni, diritto al lavoro e automazione in fase preassuntiva. Grazie. Grazie professore e grazie agli organizzatori di oggi per questa bellissima iniziativa. Devo dire che sono particolarmente contento di essere stato inserito in questo panel che intitola l'intelligenza artificiale nei processi e nei procedimenti, perché che il mio lavoro si occupi di procedimenti non è affatto pacifico, è quello che cerco di sostenere ma lo vedremo nello svolgimento di questo intervento. Il mio lavoro, come dicevo, si occupa, come il titolo suggerisce, si occupa della selezione del personale da parte di imprese private e in particolare di innovazioni tecnologiche, dell'inserimento dell'intelligenza artificiale in questo processo di selezione, che comunemente viene appunto chiamato processo, è già questo secondo me significativo. La scelta del contraente del contratto di lavoro è è stata nell'ordinamento italiano per moltissimo tempo, per quasi 50 anni, regolata dalla cosiddetta legge Fanfani che imponeva il collocamento numerico, il collocamento obbligatorio da parte pubblica con chiamate numeriche dei lavoratori. Questo significa che era stato predisposto da parte del legislatore un sistema nel quale il datore di lavoro non era del tutto libero di scegliere il contraente del contratto di lavoro, non era del tutto libero di scegliere la controparte. della controparte contrattuale, ma la pubblica amministrazione si occupava, prevedendola come propria funzione, di regolare il mercato di lavoro e di avviare su richiesta numerica dei datori di lavoro i lavoratori sulla base di criteri scelti dalla legge e scelti dall'amministrazione stessa. Questo sistema con le sue eccezioni e con le sue notevoli imperfezioni è comunque resistito per molti anni e questo era il canone non soltanto per quanto riguarda il caso italiano, ma in generale era la situazione richiesta o comunque suggerita da una convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1944. Questo assetto, quindi un assetto in cui c'è un forte ruolo pubblico nel mercato del lavoro, nell'incontro della domanda e dell'offerta, era destinato a cambiare con gli anni 90. Negli anni 90 si assiste, per il caso italiano, all'abolizione di questo sistema con la legge 223 del 1991 e nel corso dei 12 anni successivi alla creazione di un sistema completamente nuovo, un sistema nel quale non c'è più un'attività di collocamento prevista come una funzione pubblica e quindi rimessa all'attore pubblico, ma il ruolo del pubblico è soltanto quello di regolare l'attività di attori privati, delle cosiddette agenzie del lavoro, che si occupano loro di intermediazione della domanda e dell'offerta e quindi non c'è più una chiamata numerica, ma l'attore del lavoro è libero di scegliere se andare direttamente sul mercato del lavoro e scegliere direttamente la controparte contrattuale oppure affidarsi a questi soggetti specializzati e autorizzati all'uopo dal Ministero del Lavoro. Nella realtà, questo diciamo è quello che avviene in teoria, ma nella realtà la maggior parte, in termini numerici, dell'incontro tra la domanda e dell'offerta di lavoro non avviene attraverso le agenzie, quindi non c'è stata una sostituzione totale del sistema pubblico con un sistema di agenzie private. Nella maggior parte dei casi quello che avviene, di cui abbiamo esperienza noi tutti, è che l'imprenditore va direttamente sul mercato e sceglie con quali controparti e contrarie e quindi quali saranno i dipendenti dell'impresa. Al di fuori quindi delle regole, delle non moltissime regole che sono state previste nel corso degli anni 90 e poi definitivamente, più o meno definitivamente, con la cosiddetta riforma Biagi del 2003, non abbiamo una regolazione di tipo gius lavoristico se non per alcuni specifici aspetti di quello che avviene prima della conclusione del contratto di lavoro. Chiaramente quello che avviene dopo sì, ma tutto quello che accade prima è tradizionalmente collocato nell'area del diritto privato e quindi della libertà contrattuale, come se prima della conclusione del contratto di lavoro lo sbilanciamento, la posizione fortemente di inferiorità contrattuale del lavoratore non fosse rilevante, non fosse rilevante, la persona in cerca del lavoro non fosse rilevante. Quindi siamo nell'ambito del criterio della libertà di scelta del contraente, dal punto di vista giuridico. Questo almeno in teoria, perché nella pratica la selezione del personale non è libera nel senso che è del tutto informale. Nelle organizzazioni più complesse quantomeno è rimessa a una serie di prassi che si sono consolidate nel tempo e che sono ormai comuni alla maggior parte dei datori di lavoro più grandi e in realtà in un certo senso di tutti i datori di lavoro, nel senso che la selezione del personale è vista appunto da un punto di vista non giuridico ma sociologico ed economico come un processo, quindi come una serie di passaggi successivi che porta alla scelta di quel solo dei possibili candidati con il quale stipulare il contratto di lavoro. Da un punto di vista appunto di nuovo sociologico possiamo vedere in termini generali la selezione del personale come, con un termine che al professor Giasanti non piace per nulla ma che è utilizzato in dottrina, come un procedimento a imbuto, nel senso che passiamo da un insieme, il più grande possibile di potenziali candidati che si propongono o addirittura ai quali verrà comunicato l'annuncio di lavoro per una sequenza di scelte successive su chi escludere dall'esame successivo e chi invece portare avanti in questo procedimento alla scelta finale di quel singolo lavoratore. Quindi all'inizio avremo il maggior numero possibile di potenziali candidati e le minore informazioni disponibili su questi candidati, alla fine di questo procedimento sarà il contrario, avremo un solo candidato tendenzialmente e il maggior numero possibile di informazioni sul conto di questo candidato. Questo da un punto di vista logico e di nuovo mi permesso di sottolineare non giuridico ma di categorizzazione mentale ci porta ad avvicinare questa pratica che quindi sta nella scelta del contraente a sostanzialmente un procedimento, una sequenza di fasi successive in cui l'esito della fase precedente è l'inizio della fase successiva e quindi la scelta su chi portare alla fase successiva dell'esame è anche l'antecedente logico di quella fase dell'esame. Per capirci da un punto di vista pratico, sostanziale, avremo per esempio una prima fase in cui il datore di lavoro accoglierà i curriculum che gli sono stati inviati e li esaminerà quindi senza nemmeno entrare in contatto diretto con il candidato, dopodiché ci potrebbero essere degli esami scritti, degli esami di logica o sulle competenze, di colloqui, una serie di colloqui magari con soggetti diversi all'interno dell'impresa e poi a seconda della complessità di questo procedimento delle altre fasi che portano alla fine alla scelta di quel singolo candidato e della conclusione del contratto. Ciascuna di queste fasi è di per sé appunto il presupposto della fase successiva. Entra così in gioco l'intelligenza artificiale nel senso che è possibile, almeno astrettamente, automatizzare ciascuna di queste fasi. Non sto dicendo che esistono nella realtà dei processi di selezione del personale che siano interamente automatizzati. Forse qualcuno, non abbiamo una certezza empirica, ma in generale non è quello che ci interessa. Quello che interessa è che anche se una sola fase di questo procedimento, di questo processo di selezione è automatizzata, questo ha delle conseguenze dal punto di vista giuridico. In particolare esistono dei pericoli che sono pericoli comuni a tutti i sistemi di intelligenza artificiale che riguardano la privacy dei candidati, e quindi delle persone in cerca di lavoro, e anche pericoli legati alla possibilità di discriminazione, discriminazioni che potrebbero essere ignote al datore di lavoro stesso. E questi sono senza dubbio degli aspetti estremamente rilevanti che vanno tenuti in considerazione. Ma questo chiaramente dal punto di vista individuale del singolo lavoratore che ha cercato di essere selezionato per una determinata mansione e non è riuscito perché è stato discriminato o perché i suoi dati sono stati gestiti nella maniera vervata. A mio modo di vedere però c'è anche un rischio ulteriore di carattere sistematico che dipende da come è fatta la selezione in questi casi, nel senso che quando viene automatizzata una fase della selezione, questa fase spesso non è gestita dall'azienda stessa, ma il software con cui il sistema di intelligenza artificiale è fornito da un fornitore esterno, e quindi in qualche modo possiamo vedere una sorta di esternalizzazione di questo potere datoriale, il potere direttivo, quindi di scelta del personale. Di conseguenza se abbiamo a che fare con solo alcune società di software che forniscono questi sistemi di intelligenza artificiale e che hanno di per sé un certo modo di selezionare le persone che magari non è di per sé discriminatorio perché non tocca dei fattori protetti, ma che comunque esclude in maniera arbitraria alcune categorie di lavoratori dalla considerazione per la conclusione di un contratto di lavoro, abbiamo un rischio sistematico dal punto di vista del diritto al lavoro. Il diritto al lavoro è un termine polisemico che racchiude in sé una serie di significati molto variegati e molto complessa, diversa anche seconda della fonte che consideriamo nel caso specifico. Se ci limitiamo all'analisi della nostra Costituzione che prevede il diritto al lavoro all'articolo 4, possiamo vedere che il diritto al lavoro contemporaneamente racchiude in sé sia un significato di diritto sociale, quindi come diritto a che lo Stato crei le condizioni per la massima occupazione possibile, sia come un diritto di libertà e quindi come diritto a non subire delle indebite interferenze nell'accesso all'occupazione. Esiste forse una chiave di lettura più convincente di tutte, che è una chiave di lettura che ha proposto il giuslavorista Massimo D'Antona nei suoi studi, che è una chiave di lettura innovativa che tiene conto degli sviluppi, proprio degli sviluppi anni 90, in materia di regolazione del mercato del lavoro. Ed è una chiave di lettura che legge il diritto al lavoro anche, non soltanto, come garanzia ed uguaglianza davanti al lavoro disponibile. Ed è qui che entra in gioco il nostro rischio sistematico per il diritto al lavoro dei candidati messi davanti a una selezione in parte o in tutto automatizzata. Ci chiediamo allora se il diritto al lavoro così inteso, secondo questa lettura di fine anni 90, impone una qualche forma di regolazione o se invece tutte le attività che avvengono prima della conclusione del contratto di lavoro possono essere lasciate alla discrezionalità dell'imprenditore. La mia risposta, la mia opinione è che in effetti sì, è così, è necessaria una forma di regolazione che rende effettivo questo diritto. E allora la domanda successiva è la regolazione attualmente disponibile, quindi l'ordinamento per come è oggi in questo momento garantisce, integra il diritto al lavoro così come è letto in questi termini? Qui ovviamente la risposta si fa più complessa. Quando prendiamo però in considerazione i sistemi automatizzati, quindi i sistemi di intelligenza artificiale applicati al processo di selezione, non stiamo prendendo in considerazione soltanto le regole classiche che si applicano a tutti i processi di selezione, quindi per esempio l'articolo 8 dello statuto dei lavoratori che vieta le indagini sulle opinioni dei lavoratori. Abbiamo l'opportunità di applicare delle normative che non sono pensate specificamente per il rapporto di lavoro, ma che hanno un'applicazione trasversale e in queste applicazioni trasversali incidono in maniera, secondo me, molto significativa anche su questa fase appena precedente al rapporto di lavoro. Parlo in particolare della disciplina di due strumenti di diritto dell'Unione Europea, in particolare della disciplina del GDPR, quindi la protezione dei dati personali e la disciplina di regolazione sull'intelligenza artificiale, con il regolamento sull'intelligenza artificiale che è stato approvato pochi mesi fa. Ecco, poi nel caso se ci sono delle domande specifiche su questi strumenti possiamo entrare nei dettagli, ma anche per ragioni di economia e di tempistiche vorrei limitarmi a questa osservazione. Attraverso l'applicazione di questi due strumenti, che ripeto non sono pensati per il caso specifico del rapporto di lavoro, ma possono essere applicati al rapporto di lavoro, possiamo concludere non soltanto che effettivamente questi strumenti possono servire alla protezione del diritto al lavoro dei candidati davanti a questa nuova realtà sociale, ma anche che stiamo andando incontro, almeno in parte, a una procedimentalizzazione dei poteri datoriali. E questa è una prospettiva estremamente interessante che è specifica dell'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro. Grazie. Magari poi do la parola se ritengono anche ai colleghi di diritto del lavoro. Volevo solo chiederti, mi permetto poi di dare a tutti del tu, solo a beneficio e a comprensione anche di tutti noi, me compreso che non sono un esperto della materia. Quando delineavi un po' possibili tecniche di applicazione dell'intelligenza artificiale, cioè volevo capire un po' il campo che ci interessa. Si intende, e scusa la banalità ma concretezza della cosa, solo per esempio la possibilità di effettuare un esame del curriculum o del passato magari o dei dati che vengono somministrati o anche un tema per esempio di verifica facciale, del tono di voce o di altre cose che gettano ovviamente prospettive un po' più peculiari e anche pericolose anche rispetto poi al futuro o ai dati sensibili della persona che abbiamo di fronte. Volevo un attimo solo capire l'ambito. Certo, effettivamente sul punto sono stato molto sintetico ma vale la pena spendere una parola. Abbiamo fatto una ricerca empirica nel corso di un progetto PIN che è stato condotto nell'Università Bicocca dal 2020 e il 2022 e abbiamo appurato che in Italia, anche in Italia, vengono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale non soltanto in situazioni in qualche modo più innocue come lo screening automatizzato dei curriculum che è un'applicazione piuttosto semplice e non particolarmente voluta ma addirittura in situazioni come la conduzione e l'analisi di interviste con anche, quantomeno questo è quello che promettono i fornitori di questi sistemi, un'analisi delle espressioni facciali, delle emozioni, di quello che un candidato esprime da un punto di vista di analisi psicologica nel corso di un colloquio. Questo è naturalmente molto più problematico e merita forse ancora più attenzione. Grazie. Scusatemi che poi vado a fare lezioni. Innanzitutto grazie a tutti voi per aver organizzato e mi complimenti, sono, lo dicevo prima, anche un pochino invidiosa di non aver avuto questa opportunità in passato durante il periodo di dottorato. Complimenti a Filippo, ovviamente, è un progetto, il suo che conosciamo e di cui abbiamo parlato spesso. Solo due spunti da quello che hai detto, mi riallaccio a Massimo D'Antona, visto che è stato citato e ovviamente all'articolo 8 che è emerso, insomma, sullo sfondo e che, insomma, a beneficio di tutti, ricordo, è una norma che paradossalmente ha tutelato il diritto alla privacy, diritto borghese, a beneficio invece dei lavoratori, dei dipendenti. Per la prima volta la normativizzazione del diritto alla riservatezza è avvenuta appunto a beneficio dei lavoratori. Perché parlavo di D'Antona? Perché effettivamente da ciò che è emerso dalla ricerca che sta conducendo Filippo e di cui sta dando conto nella sua attesi, è emersa, insomma, di nuovo la rinnovata centralità dell'articolo 8, nonostante sia una norma vecchietta, diciamo, del 1970 e non si offenda chi è di quegli anni, è una norma oggettivamente vecchietta che però effettivamente riassume, riacquisisce una nuova importanza e centralità oggi, nuovamente per misurare un po' questo difficile rapporto che lega e slega giuristi e tecnologia, riemerge come nei mitici anni Ottanta, con una peculiarità, cioè ci consente di comprendere oggi in un contesto in cui di nuovo la persona è tornata al centro delle relazioni di lavoro, la persona intesa quindi nel suo complesso, quindi la personalità, le proprie inclinazioni, la propria emotività, il suo benessere inteso in senso ampio, ecco, è tornata al centro delle relazioni di lavoro e ci consente di comprendere come questo diritto a non essere oggetto di indagini non solo ma di eccessive attenzioni anche da parte di questi nuovi sistemi che effettivamente è venuto fuori come intercettassero reazioni emotive, sensibilità, ecco, ci consente di comprendere come il diritto alla riservatezza nei rapporti di lavoro equivalga al diritto di essere diversi uno dall'altro quindi come ci diceva D'Antona appunto perché è importante il diritto alla riservatezza tutelato e da tutelare anche soprattutto nel caso in cui siano sistemi automatizzati a svolgere queste prime fasi di colloqui come effettivamente sta avvenendo perché è ciò che ci consente di essere diversi ricordandoci che il luogo di lavoro, voi ne siete una dimostrazione il luogo in cui ci si manifesta, si manifesta appunto la nostra personalità si intrecciano in relazioni, abbiamo diritto tutti quanti di essere diversi uno dall'altro e di non essere trattati in modo differente ed eteriore proprio per questa ragione mi taccio e lascio la parola al professor Varva che sicuramente ha cose anche più illuminanti da dirvi e vado a fare lezioni cedo il microfono e vado via vi ammetterei anche qua, dico due cose sempre dubbio che questo microfono sia poco efficiente mi accordo ai complimenti che vi faceva Marta Giaconi spero che diventi un appuntamento fisso trovo che sia soprattutto un'occasione per capire cosa significa studiare diritto dai vari punti di vista parlo da studenti è una cosa, dottor Andi ci sono poche occasioni e la tentazione è sempre quella di specializzarsi personalmente ritengo che più tardi ci si specializzi meglio è i migliori giuristi sono quelli che respirano dei vari campi dello scibile dell'umanità forse e almeno del diritto quindi è bello ascoltarsi per il resto qualche suggestione davvero al limite del banale anche perché dovrei cominciare la lezione cinque minuti fa quindi significa che fra poco devo andare qui c'è una questione che Filippo solleva della sovrapposizione di discipline diverse non solo geosavoristiche, non solo nazionali quindi c'è un multilevel verticale e un multilevel orizzontale discipline su cui chi come me ha studiato diritto a cavallo tra gli anni 90 e il 2000 che già è un diritto abbastanza innovativo ma non certo come questo fa fatica a muoversi quindi il valore aggiunto credo che voi abbiate una sorta di vantaggio competitivo sul mercato in modo un po' banale è quello di maneggiare gli strumenti che per noi sono strumenti che difficilmente riusciamo a veramente a metabolizzare già l'algoritmo ci spiazza è come una ricetta sì è come una ricetta però non basta quello machine learning cosa significa machine learning? parlavo con un informatico qualche giorno fa diceva l'intelligenza artificiale anche se non sa le cose ti risponde lo stesso non è in grado di non rispondere non dice non so a me verrebbe da dire un po' come un avvocato o un professor universitario però significa che ti trovi davanti a uno strumento che è spiazzante perché ha degli atteggiamenti che tu non consideri e che quindi devi cercare di rielaborare a luce di conoscenze che ormai in qualche modo si sono consolidati in te la gioventù ha quella flessibilità per poter anche metabolizzare con una certa rapidità conoscenze nuove questo è secondo me una cosa su cui bisogna riflettere con attenzione l'ultima cosa mi piacerebbe darevi tante suggestioni ma una in particolare mi verrebbe da suggerirvi è quello dell'aspetto dell'effettività ma si può fare l'intervista a qualcuno registrandolo? ma si può guardare la retina con l'intelligenza artificiale sapendo che la retina dagli studi dei medici si pare che facilmente si riesca a predire statisticamente la possibilità di sviluppare alcune patologie in futuro ovviamente non si può ma una cosa significa vietare una cosa significa rendere effettivo questo diritto peraltro per esempio nel nostro mondo il diritto del lavoro la fase della preselezione e della selezione è una fase delicatissima da una parte perché difficilmente si riesce a far valere valori patrimoniali molto forti c'è una perità di chance salvo poter dire se è stato discriminato e devi dimostrarlo e anche lì bisogna capire se si può avere un risarcimento che va oltre quanto tu perdi patrimonialmente quindi c'è tutta la questione non tanto dei danni punitivi quanto dei danni che superano quello dell'arricchimento eccessivo rispetto alla situazione patrimoniale di partenza questione non facile da dirimere ma il datore di lavoro non deve spiegare perché ti assume perché assume te e non assume un altro o viceversa perché non mi hai assunto nel pubblico impiego può essere diverso ma nel privato il problema vero è che il motivo nel senso tecnico è l'elemento più rilevante la causa è l'accordo fra le parti che si vedono sul mercato si piacciono e si decidono di stipulare un contratto il che significa che c'è anche un'arbitrarietà intrinseca nella scelta di un soggetto rispetto a un altro e qui sì la tecnologia complica le cose ma da un'altra parte mi viene da dire provocatoriamente rende più trasparente perché? perché significa che in qualche modo proceduralizzando un terzo soggetto davanti al giudice potrebbe utilizzare questi strumenti per poter andare ex post a verificare con quale processo si è arrivati a questa selezione quindi in qualche modo oggettivizzando una valutazione che sinora è prettamente soggettiva su questo aspetto dell'effettività bisogna insistere perché a volte non si riesce a prevenire bisogna curare e quindi tutto per l'aspetto rimediale l'aspetto dell'effettività diventa decisivo ai fini del diritto l'astratto e il concreto da questo punto di vista si incrociano e non si possono tenere separati mi taccio vi ringrazio dell'attenzione congratulazioni e buon lavoro Gli spunti sono già tantissimi ruolo dell'autonomia privata rispetto a quello stiamo parlando l'effettività la tutela dei diritti anche il ruolo dei principi in questi scenari ma magari tornerai dopo abbiamo accennato al tema dicevo della tutela per cui do la parola perché siamo in quest'area tutela tutela dei diritti giustizia al dottor Andrea Monesiglio dell'Onestà Bicocca che ci parla di giustizia previsionale nel processo civile e principio di non esclusività Buongiorno a tutti grazie intanto per la partecipazione e in questo intervento di oggi vi provo a esporre in questi pochi minuti che cosa si intende per giustizia previsionale che cosa si intende per principi di non esclusività e che cosa si intende per principi di utilizzo ragionevole sono questi qua i tre punti che vorrei toccare durante l'intervento di oggi immagino che alcuni di voi abbiano già sentito parlare dei sistemi di giustizia predittiva a volte soprattutto dai mass media vengono se ne parla in termini di giudici robot ricordo che mi è rimasto impresso un articolo di giornale nel quale si parlava del fatto che la Cina avrebbe creato il primo giudice robot e lo avesse utilizzato all'interno di una corte territoriale che se non ricordo male è la corte di Angzow non sono sicuro però che si pronunci così e l'evingi va rappresentato appunto come un software capace di sostituirsi integralmente al giudice umano quindi al decidente umano in realtà non era così si tratta perché è ancora oggi utilizzato si tratta in buona sostanza di una piattaforma online che si basa su meccanismo di blockchain che serve per digitalizzare l'organizzazione e la comunicazione all'interno di quella specifica corte ecco quindi la notizia era molto fuorviante credo sia fuorviante anche parlare di giustizia predittiva perché c'è il rischio che questi sistemi vengano intesi e vengano visti un po' come il software che hanno delle funzioni profetiche e divine un po' come se fossero degli oracoli da consultare ai quali rivolgersi per avere la decisione non è in realtà così sono strumenti che in realtà si basano su algoritmi che per definizione sono delle serie concatenate di regole che dà delle premesse da dei dati in input attraverso un ragionamento formale poi forniscono una risposta motivo per il quale credo sia più opportuno parlare appunto di giustizia previsionale e non predittiva perché alla fine questi software non fanno altro che fornire come risposta una previsione statistica sulla base dei dati che hanno in pancia i dati che vengono forniti a queste macchine almeno in ambito giustizionale sono le sentenze sentenze delle corti di merito corti di legittimità dei tribunali che vengono etichettate quindi l'operatore umano sceglie quelle che sono le entità rilevanti e le informazioni che devono essere estrapolate da quelle macchine le sentenze vengono taggate vengono poi processate dagli algoritmi e poi forniscono una risposta la maggior parte dei sistemi che sono oggi utilizzati per lo più da attori privati sono sistemi che non sono integrati con sistemi di intelligenza artificiale generativa quindi non possono essere interrogati come si interroga chat GPT per intenderci quindi forniscono soltanto delle risposte relative a domande predeterminate domande che vengono fatte alla macchina durante l'addestramento e quindi soltanto a quelle domande poi la macchina potrà rispondere banalmente se si vuole sapere qual è la durata di un processo nel foro di Milano di Roma di Torino quant'altro la macchina fornirà quella risposta non possono essere fatte delle domande diverse dicevo che ad oggi sistemi di questo tipo sono utilizzati prevalentemente da torri privati da studi legali e da studi notarili non ci sono dei software di giustizia previsionale istituzionalizzati nel senso non c'è almeno nel nostro rinunamento domestico non ci sono dei tribunali che ad oggi utilizzano questo tipo di sistema per esercitare o per svolgere le funzioni giurisdizionali a prescindere da questo però se ne parla molto sono dei software non attuali ma sicuramente futuribili e tant'è che l'Unione Europea ha riconosciuto ha dato un riconoscimento giuridico a questi sistemi nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale si è portata avanti l'Unione Europea anche sulla base delle esperienze passate questa mattina hanno citato il caso l'UMIS il caso COMPAS il caso nel quale venne fatta applicazione di questo principio il principio di non esclusività che adesso lo racconto brevemente quindi si tratta comunque questo per dire che si tratta di un fenomeno che già esiste che ha trovato un riconoscimento all'interno di questo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale pubblicato nel luglio di quest'anno questo regolamento adotta un approccio che si basa sul rischio brevemente cosa vuol dire vuol dire che è maggiore il rischio che deriva dall'utilizzo di questi sistemi dei sistemi che questo regolamento si propone di regolamentare più stringente alla normativa alla quale saranno sottoposti tra i vari sistemi una categoria è quella di sistemi ad alto rischio che poi possono essere sottoclassificati in sistemi indipendenti e sistemi dipendenti all'interno dei primi di quelli indipendenti c'è anche quello che ho chiamato ho menzionato essere il software di giustizia previsionale sono indicati tassativamente all'allegato numero 3 di questo regolamento e il paragrafo 8 appunto parla di questi sistemi la lettera A della norma qualifica cioè acquarifica questi sistemi come ad alto rischio e dice ce ne parla in questi termini sono sistemi utilizzati per assistere l'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti questa norma brevemente chi cosa fa riconosce attribuisce che positivizza il principio di non esclusività che come prima ho accennato non è un principio inedito nel senso che fu già applicato oltreoceano in America nel caso Loomis versus Wisconsin nell'ambito domestico nostro dalla giurisprudenza amministrativa nelle controverse relative all'assunzione del personale scolastico tramite procedimenti automatizzati questa giurisprudenza prima ancora che venisse emanato questo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale aveva positivizzato o meglio aveva ricondotto questo principio al GDPR in particolare all'articolo 22 e brevemente cosa diceva non possono essere attribuite delle funzioni decisionali a dei software a dei procedimenti automatizzati se poi questa scelta si ripercuote sui diritti dei singoli ad oggi questo principio trova riconoscimento anche all'interno del regolamento europeo anche se in realtà in dottrina non si è proprio tutti quanti concordi nel ritenere che questo principio potesse essere ricondotto al GDPR in particolare all'articolo 22 il quindi ma cos'è questo principio questo principio brevemente vuole e implica che non possano essere attribuite delle funzioni decisionali ad un sistema di intelligenza artificiale ma debba sempre essere garantita una riserva di umanità quindi ci deve sempre essere un apporto partecipativo intellettivo umano problema la norma parla di software che assistono l'autorità giudiziaria quindi di giudice si può si potrebbe porre questo problema quale si potrebbe ritenere che il mio raffiancamento dell'uomo alla macchina cioè il fatto che l'uomo affianchi la macchina permetta di ritenersi di ritenere rispettato questo principio però qual è il problema non è detto che il fatto che l'uomo si affianchi alla macchina ne escluda un utilizzo improprio quindi come si può risolvere questo problema potrebbe estrapolarsi un corollario da questo principio di non esclusività che si può chiamare principio di utilizzo ragionevole che cosa comporterebbe cosa significa significherebbe che l'apporto partecipativo umano debba essere valutato caso per caso non debba mai essere dato per scontato nel senso che l'affiancamento dell'uomo non come dicevo non esclude che venga fatto un utilizzo improprio del software ma debba sempre essere valutato caso per caso se il giudice ha fatto buon utilizzo di questi sistemi come in che maniera si potrebbe valutare innanzitutto si rimetterebbe il giudice al suo potere discrezionale l'utilizzo o meno di questi sistemi all'interno del processo qualora poi decidesse di avvalersene dovrebbe valutare innanzitutto se si trova di fronte ad una causa complessa oppure semplice da questo poi discenderebbe la possibilità di utilizzare questi sistemi in che termini dicevo che questo principio vuole vorrebbe che l'apporto partecipativo umano debba sempre essere superiore rispetto a quello che dà la macchina nella decisione finale dovrebbe quindi garantirsi dovrebbe essere garantito che la macchina decida su un numero minore di questione rispetto a quelle sulle quali si pronuncia il decisore umano si può fare credo io a mio avviso credo che si possa fare applicazione in questo ambito di una tesi proposta in riferimento al procedimento semplificato di cognizione per valutare la semplicità o la complicatezza della questione nel senso per valutare se una causa è semplice o complessa si potrebbero valutare quanti quali e quanti sono i fatti principali dedotti in via di azione in via di eccezione quindi andare a pesare a quantificare il tema decedendum esempio se i fatti dedotti in via di azione ed eccezione sono cinque e la macchina si pronuncia su uno soltanto di questi allora il contributo partecipativo umano è sicuramente maggiore rispetto a quello della macchina e quindi si può ritenere soddisfatto questo principio diversamente se la macchina si pronunciasse su quattro fatti o su tre fatti su cinque ecco che il contributo della macchina sarebbe maggiore rispetto a quello umano e il principio non potrebbe ritenersi soddisfatto integrato e concludo portando un problema cioè sollevando un problema qual è è questo si crea un impasto cioè nel senso l'applicazione rigorosa di questi principi ossia far decidere la macchina su un numero limitato del tema su una porzione limitata del tema decedendum comporta un problema quale il fatto che di regola non potrebbero essere applicati questi sistemi agli small claims in genere quando si pensa a questi sistemi una delle funzioni principali che vengono ricondotte a questi è la diflazione del contenzioso se noi diciamo che la macchina non si può pronunciare to cure su tutto quanto tema decedendum o su su molti aspetti di questo noi diciamo diciamo implicitamente che questa non può applicarsi agli small claims quindi a tutte quelle controverse e quelle cause del valore tutto sommato limitato che in genere presenta una complessità medio-bassa e questo è un problema perché potrebbe non essere realizzata una funzione di questi software che poi è forse la principale che si pensa che si vuole attribuire concludo facendo un'osservazione al dottor Bordoni prima hai parlato e l'ho segnato prima dicevi che l'applicazione dei software di intelligenza artificiale in fase preassuntiva comporta alcune problematicità quelle sulla privacy sulle discriminazioni e sull'esternalizzazione della scelta datoriale lo prendo come assist come spunto di riflessione dicendo che anche sotto il profilo della giustizia predittiva previsionale si pone questo problema si è parlato infatti di esternalizzazione della decisione nel senso che l'utilizzo di questi sistemi nella fase giurisdizionale comporterebbe il fatto che la decisione stessa venga attribuita non tanto all'uomo ma quanto alla macchina quindi si pone il problema chi è che decide decide la macchina o decide l'uomo piccola precisazione poi concludo se ne è parlato in termini diversi a seconda che il software sia un software di machine learning o di o sia un sistema esperto hanno un funzionamento diverso e proprio il loro funzionamento comporta una diversa esternalizzazione della funzione e della decisione nel senso che si è detto qualora si utilizza un sistema esperto la decisione è in qualche maniera in qualche modo sempre riconducibile all'uomo perché questi software possono essere utilizzati e funzionano sulla base delle informazioni che l'uomo dà passo passo alla macchina e quindi il ragionamento che la macchina segue è più o meno verificabile e comunque sempre riconducibile a una persona il problema si pone in realtà in maniera più consistente con riferimento ai software di machine learning perché non è possibile estrapolare il ragionamento che la macchina fa e non si riesce e non si può ricondurre quindi non si possono ritrovare le premesse sulla cui base la macchina poi ha dato una risposta e in questi termini poi si pone appunto il problema rispetto a chi ha deciso la macchina come ha deciso la macchina e concludo così grazie anche qui gli spunti sarebbero molteplici direi in primis proprio alla base il fatto che applichiamo problematiche collegate all'intelligenza artificiale al luogo che dovrebbe essere deputato alla tutela dei diritti quindi rischia di crearsi anche un cortocircuito ma poi il tema del meccanismo decisionale addirittura addombrato temi relativi all'oggetto del processo alle questioni che si pongono a quanto coincide l'intelligenza artificiale sulle singole questioni ma ora mi viene in mente anche il problema della ragione più liquida della decisione fondata su una sola questione ma mi dilungherei e poi il tema impugnatorio come posso impugnare cosa devo contestare mi riferisco all'oggetto della lite al tema decidentum oppure al parametro che ha utilizzato l'algoritmo al precedente che ha utilizzato l'algoritmo tematiche dense ma anche per ragioni di tempo poi spero di lasciare un po' al dibattito finale devo dare la parola al dottor Antonio Borghetti dell'Università degli Studi di Brescia quindi diamo anche il benvenuto finora hanno parlato dottorandi di Bicocca il dottor Borghetti ci porta in un'altra area di processo e procedimento estremamente rilevante anche per tutta diciamo la vita dei cittadini come incidenza forse ancora di più rispetto a quanto abbiamo sentito finora perché ci parla dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo tributario alla ricerca della vera evasione lascio la parola al dottor Borghetti grazie grazie molto un saluto a tutti e mi scuso per non essere stato presente questa mattina e vi ringrazio per aver collocato la mia intervento al pomeriggio in modo tale di avermi consentito la partecipazione il titolo è già stato ricordato una precisazione non parlerò della tassazione di intelligenza artificiale e della tassazione dei robot cosa che però in una dottrina si è anche iniziato ad affrontare perché evidentemente queste tecnologie in qualche modo vanno a sostituire fattori produttivi il lavoro diretto delle persone e quindi evidentemente potrebbero anche rappresentare dei fattori indice di capacità contributiva e quindi elementi exe da tassare in qualche modo evidentemente non è ancora questo il tempo in particolare nel nostro paese dal momento che siamo ancora abbastanza in una fase di ipertrofia di crediti di imposta con riferimento a investimenti e soprattutto investimenti di natura innovativa con i crediti di industria 4.0 crediti di imposta e quindi non affronto questo tema che comunque sarebbe interessante il mio ragionamento nasce da due studi separati che ho fatto in materia di intelligenza artificiale nei controlli tributari e intelligenza artificiale nel processo tributario in questo in questo arco di tempo tra l'altro abbiamo avuto la legge delega per la riforma fiscale legge 111 2023 e abbiamo ancora in essere il piano nazionale di ripresa e resilienza che anche in materia tributaria ha inciso molto sia sui controlli che sul processo inizio dai controlli il primo monito ci arriva dalla Corte dei Conti la Corte dei Conti ci dice nella sua relazione annuale anche l'ultima che i controlli tributari effettivi sono veramente pochi inferiori al 4% con diciamo andamenti diversi per tipologie di settori perché se ne occupa la Corte dei Conti beh ovviamente c'è una preoccupazione importante sulla tenuta dei conti del paese e il diritto tributario nasce dalla scienza delle finanze e quindi deve in qualche modo guardare anche le uscite ma prova ne è che la Corte Costituzionale con la sentenza in primis Robin Hood Tax e anche recentemente la Sugar Tax 49 2024 si occupa dell'entrata tributaria questa diventa una preoccupazione anche per il tributarista perché evidentemente anche norme apparentemente incostituzionali vengono salvate dalla Corte per problemi di tenuta dei conti pubblici abbiamo però un controllo e questo non è in contraddizione con quanto ho appena detto abbiamo però un controllo che viene universalmente applicato a tutti i contribuenti in realtà non tutti solamente quei contribuenti che danno diciamo cenno della loro presenza trasmettendo una dichiarazione dei redditi quindi contribuenti che in qualche modo sono già in parte virtuosi e che quindi comunicano autodeterminano molto spesso parliamo soprattutto di imprenditori liberi professionisti autodeterminano la loro imposizione la dichiarano e poi magari non la versano e c'è un controllo cosiddetto automatico articoli 36 bis o 36 ter per quelli più cartolari che subiscono tutti i soggetti che hanno rappresentano delle anomalie tra quanto dichiarato e quanto poi effettivamente versato la domanda allora che sorge è ma ci hai detto che ci sono pochi controlli dall'altra ci sono molti controlli automatici dov'è che dobbiamo cercarla questa evasione ma è evidente che il nostro tessuto imprenditoriale ma anche professionale con pochi studi associati è un po' delle statistiche ci dicono è un po' la zona d'elezione dell'evasione fiscale perché appunto con la riforma fiscale degli anni 70 il meccanismo per l'individuazione della base imponibile è stato quello di lasciare ai singoli contribuenti la determinazione della base imponibile e poi la dichiarazione il controllo effettivo è solamente successivo ed eventuale allora la domanda associativa è come cercare questa evasione la cerchiamo per mezzo di presunzioni quindi partendo da determinati fatti noti ad esempio i costi vado a determinare i ricavi o i compensi oppure mi devo spostare verso la ricerca di una prova più rigorosa non voglio dire la pistola fumante del diritto penale però una prova più rigorosa questo perché perché già in Audi ci diceva che l'uomo della strada vuole capire il perché paga e se non capisce il motivo per cui gli viene chiesto il tributo grida all'ingiustizia c'è una terza via tra presunzioni e prova rigorosa è quello dell'abdicazione dello Stato nel richiedere la giusta imposta nel rispettare il parametro dell'articolo 53 della carta fondamentale e non sto parlando di fantascienza ma sto parlando di tutti i condoni che noi abbiamo avuto nel nostro paese e da ultimo uno che entro probabilmente il 31 ottobre di quest'anno si verificherà che si chiama concordato preventivo pienale dove i contribuenti andranno su proposta dell'amministrazione finanziaria a determinare una loro base imponibile e la concordano e una volta che realizzeranno compensi o redditi imponibili più o meno elevati rispetto a quanto già ab origine concordato non subiranno nessun tipo di imposizione per quel biennio ma abbiamo anche un settore intero che è il primo in quello agricolo tassato con meccanismo catastale che effettivamente non contribuisce in alcun modo ai conti del paese la risposta però non la do io ce l'ha già data il legislatore del PNRR con la legge 130 del 2022 con l'inserimento del nuovo comma 5 business dell'articolo 7 del decreto del Giro T546 del 1992 il codice di diritto tributario una norma e vado veloce che sostanzialmente ripercorre molti passaggi dell'articolo 530 comma 2 del codice di bruciatura penale e che quindi dà in ambito tributario finalmente una regola di ripartizione dell'onere alla prova e del livello dell'onere alla prova e soprattutto si affianca a quella materia che è il diritto penale dove l'onere della prova deve raggiungere i massimi i massimi livelli come trovare l'evasione abbiamo detto oggi l'amministrazione finanziaria la pubblica amministrazione ha delle banche dati incredibili e quindi arrivo all'intelligenza artificiale tecnologia dove ovviamente per la quale non entro nel merito ma che è caratterizzata per la grande capacità di gestire numerosi numerosi dati e soprattutto la capacità si auspica di rendere interoperabili tutte queste banche dati in possesso della pubblica amministrazione e anche qui prendo un spunto da un autorevole studioso che ci dice con occhi sbalorditi la straordinaria disponibilità di informazioni provenienti da fonti sempre più numerose da un lato e di numerosi obbligi a carico dei contribuenti dall'altro rendono quasi inspiegabile il perdurare e la dimensione di un fenomeno patologico come è l'evasione fiscale quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per finalmente far lavorare questi dati già in possesso della pubblica amministrazione dell'agenzia dell'entrata in particolare e della guardia di finanza a mio modo di vedere genererà un notevole incremento dei controlli quello che all'inizio avevo detto la corte dei conti ci aveva dato come monito essere molto poco numerosi le tutele ovviamente per far fronte a queste nuove tecnologie soprattutto dovranno vertere sulla tutela della privacy con ipotesi già avanzate come la pseudonimizzazione ma dovranno oggi far fronte anche alle novità introdotte dallo statuto dei diritti del contribuente che vi ricordo è arrivato con 30 anni di ritardo rispetto allo statuto dei diritti dei lavoratori subordinati è arrivato nel 2000 che introduce il principio di proporzionalità articolo 10 ter e articolo 10 ter che ve lo leggo molto recepisce di fatto un principio che già a livello unionale internazionale veniva considerato come immanente dice il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente nel rispetto del principio di proporzionalità in conformità al principio di proporzionalità l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'illusione e dell'evasione fiscale e anche alle sanzioni tributarie quindi questo è un principio che evidentemente impatterà anche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale che comunque è richiamata nel PNRR ma anche nella legge delega ulteriore norma di rilievo che segue alla riforma fiscale è quella contenuta nell'articolo 7 quinquies dello statuto vizi dell'attività istruttoria non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre ai termini di decadenza per le verifiche in loco o in violazione di legge e quindi qui abbiamo finalmente una disciplina in ambito tributario dove per anni abbiamo invocato l'applicazione per estensione del 191 CPP di quello che è il regime delle prove acquisite illegittimamente il diritto tributario peraltro vi segnalo è norma assolutamente idonea all'applicazione di tecnologie software più o meno velute perché abbiamo già dato prova e con le dichiarazioni fiscali tributarie che sono oggi completamente digitalizzate con la trasmissione dei modelli F24 con gli studi di settore gli indici sintetici di affidabilità fiscale e tutta una serie di software che ormai regolamentano tutto il procedimento amministrativo tributario incremento dei controlli maggiore invasività dei controlli e c'è un buco però dal mio punto di vista che riguarda i termini di decadenza che a mio avviso con questi poteri istruttori notevolmente incrementati dovrebbero andare a ridursi incremento dei controlli e quindi potenzialmente anche in proporzione o magari meno che in proporzione dato il livello maggiore dell'anno della prova che dovrà assumere incremento delle liti e qui passo al processo tributario processo che ha delle specificità assolutamente uniche nel nostro dinamento in primis perché non è nemmeno previsto nella nostra carta fondamentale noi ci siamo arrampicati sugli specchi con la sesta norma attuativa della Costituzione dicendo che era un giudice presistente all'entrata in vigore della Costituzione la Corte Costituzionale prima l'ha considerato non mi guardi male professore ah ok perché subivo un po' la sua pressa la Corte Costituzionale l'ha giudicata organo giudiziario in primis poi è tornata sui suoi passi e poi è nuovamente tornata a considerarlo organo giudiziale quindi c'è stato un andirviene anche da questo punto di vista è un giudice speciale è un giudice però con una composizione assolutamente inadeguata ci sono solamente alcuni giudici del collegio che sono togati e altri non sono togati e peraltro sono giudici onorari che non percepiscono ad oggi una remunerazione adeguata altra particolarità è la difesa tecnica che non è riservata unico processo altra particolarità rispetto a e peraltro processo amministrativo si sviluppa su due gradi di merito pieni e anche il grado di legittimità per tutti i motivi del 360 del codice di procedura civile abbiamo poi un vulnus incredibile che è la dipendenza dal ministero dell'economia e delle finanze cioè i giudici tributari sono remunerati dal ministero dell'economia e delle finanze che sulla base di accordi triennali che fa operare l'agenzia delle entrate come appunto ente per la ricerca dell'evasione e per la poi la riscossione è un processo liofilizzato unica udienza molto veloce molto sbrigativo istruzione probatoria ma praticamente assente e abbiamo però una cosa che è interessante per l'intelligenza artificiale una parte processuale quasi necessaria che è il resistente che è sempre un'amministrazione finanziaria sia entrate dogane ente locale le criticità del processo tributario sono state enucleate nel PNRR con un colpo quasi ferale nel senso che è stato criticato in modo molto acceso sia il giudizio di merito dicendo che sostanzialmente la metà delle pronunce della Cassazione andavano in riforma delle sentenze della giudice di appello quindi un colpo nei confronti dei giudici di merito e quindi giudizio qualitativo e poi un giudizio quantitativo perché il processo tributario ingolfa di fatto la nostra Suprema Corte di Cassazione perché ad oggi il 47% dei ricorsi pendenti sono in materia tributaria su 5 sezioni abbiamo un peso assolutamente preponderante e poi vi dico ecco come affrontare anche qua la problematica la prima tecnica diciamo all'italiana è quella dell'abdicazione ai condoni definizione eliti pendenti rottamazione rottamazione bis rottamazione terra rottamazione quater e quindi evitare ridurre il contenzioso tramite misure episodiche in teoria straordinarie ma in realtà quasi ordinarie che però incentivano ancora di più la coltivazione delle eliti oppure tramite un investimento ovviamente io ho scritto anche un piccolo articolo sulla riforma del giudice tributario su spinta UE perché è grazie all'Europa e grazie al PNRR che noi abbiamo avuto con la legge 130 del 2022 la riforma del giudice tributario giudice tributario che finalmente diventerà un giudice tributario un giudice professionale a tempo pieno remunerato adeguatamente e quindi i concorsi sono in fase di definizione in fase di partenza sono già state nominate le commissioni e quindi a breve avremo anche questo nuovo giudice ordinario è evidente però che cos'è che si troverà questo nuovo giudice un aumento delle liti se siamo d'accordo su quanto detto al punto precedente un aumento dei ricorsi a fronte di una riduzione molto importante del numero dei giudici ad oggi sono circa 2400 e invece la riforma prevede di riuscire a gestire il primo o il secondo grado con circa 600 giudici a tempo pieno per carità ecco che allora in questo disegno l'intelligenza artificiale entra a pieno tramite il progetto Prodigit veicolato tramite il consiglio di presidenza della giustizia tributaria aveva vari obiettivi il progetto Prodigit uno di questi era la realizzazione di una banca dati pubblica finalmente pubblica e non dietro pagamento alle varie case editrici pubblica di sentenze tributarie questa in parte si è già realizzata abbiamo tutte le sentenze tutta abbiamo il 70% delle sentenze dei gradi di merito dal luglio 2021 da quando le sentenze sono obbligatoriamente digitalizzate e ad oggi sono aggiornate al 31 marzo 2024 c'era un altro filone di ricerca del progetto Prodigit che era lo sviluppo di un meccanismo di giustizia predittiva a supporto dei giudici questo ovviamente è stato contestato in modo molto incisivo da parte della dottrina e ad oggi ancora non è sviluppato ma vi dico la mia molto rapidamente io credo che c'è un bonus iniziale rappresentato dal fatto che a questa intelligenza artificiale noi dovremmo dare in pasto sentenze emanate da un giudice non professionale non specializzato e quindi sapete conoscete bene il noto problema garbage in garbage out se io do spazzatura in ingresso intelligenza artificiale mi darà spazzatura in uscita ma si potrebbe ovviamente migliorare o limitare questa problematica considerando che appunto in uscita avremo un giudice professionale che andrà a gestire il risultato della giustizia predittiva e soprattutto sarà un risultato che non è non sarà in alcun modo vincolante e ultimo aspetto con riferimento alla giustizia predittiva la formula che io ritengo più corretta per individuarla l'ho trovata nella rivista della facoltà di legge di Harvard nel 1897 il giudice Holmes scrive dovremmo abbandonare il falso linguaggio moralista degli avvocati dei giudici degli autori per assumere la prospettiva dell'uomo cattivo che vuole solo sapere cosa il giudice probabilmente farà nei fatti l'uomo cattivo è il cliente che vuole sapere quali azioni lo porteranno in prigione o gli causeranno una multa e quali fatti invece non produrranno questo tipo di conseguenze qualunque altra cosa per lui è superflua e ridondante quindi l'esigenza di sapere in anticipo avere una idea di massima di quella che potrebbe essere la decisione del giudice potrebbe essere a parte che è un desiderio recondito dell'uomo ma potrebbe essere un meccanismo che consente anche di ridurre le liti soprattutto quelle più pretestuose ovviamente rischia di avvicinarci troppo devo chiudere rischia di avvicinarci troppo al common law che comunque ha di fatto ci siamo già avvicinati molto al common law e all'importanza e al peso del precedente come lo che comunque ha dei correttivi come l'overruling quindi ha dei meccanismi per aggiornare il diritto comune da applicare ecco quindi lato processo io sull'intelligenza artificiale non vedo grandi rischi uno perché appunto il regolamento è stato detto prima UE che è già stato emanato non prevede individua scusate l'ambito giustizia come diciamo materia ad alto rischio nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e anche il DDL 1146 attualmente in discussione non prevede evidentemente una sostituzione del giudice anche perché dovremmo anche cambiare la nostra costituzione chiudo rapidamente concludo il filo rosso che lega l'intelligenza artificiale nei controlli l'aumento dei controlli il fatto che i controlli dovranno essere più rigorosi con la nuova norma del 5 bis dell'articolo 7 e questo ce lo diceva ancora il professore Allorio cioè l'amministrazione finanziaria deve munirsi di prove valide serie prima dell'eliminazione dell'atto l'aumento delle liti liti che andranno in mano a un giudice professionale e quindi un supporto necessario a questi giudici professionali che saranno in numero assolutamente esiguo l'ultima domanda è se siamo preparati a questa rivoluzione all'impatto dell'intelligenza artificiale e nel procedimento e nel processo e ovviamente con grande come dire ingenuità come tutti i giovani studiosi propongo degli adeguamenti normativi il primo e lo prendo spunto dal professor Contrino è l'introduzione lui dice di una carta dei diritti fondamentali del contribuente nell'amministrazione digitale io ritengo invece di innestare nel nuovo codice emanando codice tributario di innestare nello statuto dei diritti del contribuente una parte relativa al diritto del contribuente nell'amministrazione digitale e poi a squanso di equivoci e per codificare finalmente questo neonato giudice tributario finalmente nominarlo cennarlo anche nella nostra carta fondamentale in positivo e senza dover fare diciamo voli pindarici per giustificarne nella sua presenza grazie anche qui gli spunti sono tantissimi tutela misurabilità condivido assolutamente lo stato attuale della giustizia tributaria il problema che si crea con la cassazione dei due gradi di merito davanti ai giusti non togati quindi una evoluzione positiva ma non anticipo altri spunti e siccome abbiamo evocato questa area ancora una volta apicale della della corte costituzionale veniamo al dottor Matteo Paolanti tra l'altro dell'università di Siena quindi benvenuto grazie della partecipazione il dottor Paolanti ci parla dell'uso di sistemi automatizzati nelle corti costituzionali quali prospettive per la giustizia costituzionale prego ok si si sente allora intanto ringrazio appunto l'organizzazione di questo di questa magnifica occasione di di confronto dove appunto io ma come anche tanti altri colleghi chi all'inizio del percorso chi alla fine ha modo di di poter mettere diciamo così alla luce del sole quelle che sono diciamo così le conclusioni oppure le prime risultanze di quelli che sono i loro studi dal punto di vista della mia ricerca diciamo ho questo compito molto molto importante di chiudere questo panel che insomma sento sento insomma con con un certo peso e personalmente ritengo di di dover mettere diciamo delle cose in chiaro rispetto appunto anche a come si intende fare questo discorso questa materia che tratta appunto di corti costituzionali algoritmi o strumenti generativi predittivi di di tipo appunto informatico è una materia che si basa su tutto ciò che è in divenire come appunto se fosse la stessa metafora del del fiume che sempre scorre del pantarei e questo riflette anche lo studio e la ricerca che si vuole imprimere nei confronti di di tale ambito se penso anche solo a quanto ho proposto al al comitato ci sono nuove cose che sono appunto sorte già solo in questi ultimi mesi quindi rispetto a cosa sia uno strumento algoritmico per come possa essere utilizzato all'interno di strutture giudiziarie non credo che sia necessario appunto di nuovo soffermarsi senza appunto con il rischio che magari si possa essere di troppo quanto semmai la mia intenzione con questo intervento era quella di aprire un focus un focus su degli ordinamenti e su dei contesti che magari possono risultare dimenticati o anche dimenticabili perché se andiamo appunto a fare una mente locale in relazione alla giustizia costituzionale sicuramente la prima impressione non è quella di andare a controllare quale sia lo stato dell'arte in ordinamenti come quelli messicani colombiani o più in generale del Sud America che tendenzialmente a prima Machito potrebbero risultare diciamo diversi dal nostro tuttavia se c'è qualcosa che ho potuto intuire in questo periodo di studio è che l'humus giuridico che caratterizza certi contesti è straordinario ed è straordinario anche dal punto di vista della giustizia costituzionale e io credo che risieda proprio in questa diversità di tali ordinamenti nei confronti magari di quelli occidentali o quelli che potremmo definire più standardizzati ecco proprio perché vi è la possibilità di osare e di cercare nuove strade che da certi punti di vista ritengo che possano essere molto interessanti in particolare per iniziare questa storia a tutti gli effetti dobbiamo tornare indietro di non molti anni perché si tratta di un biennio che è il 2016-2017 che vede appunto gli stati di quello che si potrebbe definire ormai sempre più fortemente come blocco occidentale che era sempre diciamo così riverso nello studio di strutture algoritmiche forse per motivi diversi rispetto alla giustizia costituzionale pensiamo al poi quello che sarà il fallout di Cambridge analitica pensiamo al diciamo così al sorgere di questioni attinenti alla libertà di manifestazione del pensiero allo stesso tempo in Argentina si decide di creare un altro algoritmo in seno proprio allo Stato in seno a quelli che sono i laboratori dell'università di Buenos Aires che è chiamato Prometea Prometea a tutti gli effetti segue il proprio nome che può sembrare una cosa abbastanza ovvia se ci si pensa ma se andiamo a vedere quello che è il mito di Prometea ossia l'uomo che porta il fuoco degli dèi appunto alla razza umana anche in un certo senso questo algoritmo che se poi lo si andasse a studiare dal punto di vista tecnico è molto molto semplice ecco si tratta di un modello simile a una giustizia predittiva ma che viene depotenziato perché semplicemente ad utilizzarlo ci sono gli uomini e gli uomini hanno paura di questi strumenti e mi verrebbe da dire che è naturale che sia così e questo è il primo passo verso l'utilizzo di tali strumenti in quelle che sono considerabili le corti apicali di ordinamenti come sono quello argentino ma ancora di più quello colombiano la colombia da questo punto di vista ha uno strumento che risulta forse da certi punti di vista utile e allo stesso momento nei confronti della giustizia costituzionale colombiana rappresenta una palla al piede è un po' un termine forte da utilizzare ma l'amparo per come viene previsto nei sensi dell'articolo 241 della costituzione colombiana ha permesso l'instaurazione di un numero esagerato enorme di giudizi dinanzi al tribunale costituzionale colombiano che tra l'altro non è neanche una creazione di molto tempo dietro si parla di un'istituzione che ha malapena 30 anni non ha una grandissima prassi anche rispetto a come comportarsi rispetto all'amparo che è a tutti gli effetti uno strumento giuridico che viene importato che permette insomma la tutela diretta da parte dei cittadini per i propri diritti costituzionalmente garantiti senza passare attraverso un giudice a quo in maniera totalmente exabrupto ed è proprio per questo motivo per questa difficoltà che la colombia e vista anche la semplicità di quello che è un'istituzione giovane che quindi ha anche l'ambizione e forse anche l'arroganza di poter dire di provare di provare soluzioni nuove decide di abbracciare la soluzione algoritmica sia di gestione delle cause sia anche della prospettazione di possibili esiti di di tali casi dobbiamo dire che questo questo esempio nell'arco di 4-5 anni perché pretoria con laia ovviamente in maiuscolo per sottolineare questa questa grande creazione ha avuto degli sviluppi molto interessanti ma non ci si è diciamo così fossilizzati su questo stato degli atti il 14 agosto di quest'anno mentre probabilmente la maggior parte di noi era a sorseggiare qualche spritz sulla spiaggia il tribunale costituzionale ha deciso di aprire le porte anche a strumenti come chat gpt per la risoluzione di di casi con appunto profili di costituzionalità molto forte si parla ad esempio di tutela della salute di accesso alla salute pubblica di benefici fiscali tutto questo poi lo possiamo ritrovare ulteriormente in quello che è l'ordinamento messicano l'ordinamento messicano all'incirca un mese fa ha lanciato questa nuova proposta questo nuovo prospetto di intelligenza artificiale chiamata Sor Juana perché se c'è una cosa che bisogna notare in questa esperienza giuridica è che molto spesso l'eredità costituzionale si mischia molto in maniera molto forte con quello che è la cultura generale di questi paesi che sono diciamo sono caratterizzati da una visione diversa della giustizia costituzionale una visione forse che è più vicina più informale forse anche più pericolosa perché insomma vi è un po' un certo senso di dissacrare anche quello che è un istituto che è stato introdotto in certi ordinamenti attraverso un trapianto un trapianto perché semplicemente si riteneva che potesse essere un giusto metodo un giusto metodo per recuperare il terreno no e quindi in questo momento ci ritroviamo dinanzi a degli ordinamenti che hanno totalmente aperto la loro prospettiva all'utilizzo di di questi strumenti ma che allo stesso tempo si ritrovano un po' persi si ritrovano un po' persi e qui quindi voglio giungere diciamo così a passi lenti mi verrebbe da dire a quello che è invece la prospettiva nostra la prospettiva italiana per agganciarci senza lasciare insomma questo questo ragionamento a quello che potrebbe essere definito il mondo delle idee o quello di un mondo lontano da noi noi dobbiamo partire per la comprensione di questo di questo tema dalla mentalità che viene impressa all'istituzione e all'istituto della giustizia costituzionale e poi da lì imparare imparare introdurre o meno ecco in maniera in maniera sicuramente critica tuttavia va notato come vi sia questa questa tendenza appunto al cercare di rendere più vicino qualcosa che agli occhi magari della popolazione in particolare in alcuni paesi che potremmo definire senza pensare di offendere alcuna sensibilità diversi o in un certo senso sviluppati in maniera diversa magari da quello nostro o da ordinamenti simili a quello che è il nostro tuttavia se ci si pensa poi questa necessità di essere più vicini questa necessità di dimostrare che la giustizia costituzionale serve entra nella carne delle persone nella vita di tutti i giorni non è un qualcosa di così lontano e quindi noi possiamo capire il perché vi sia questa questa prospettiva che ricade sull'uso di tali sistemi ma che è figlia poi di un sentimento che io ritengo comune e che ci unisce se guardiamo ad esempio ai mutamenti della corte costituzionale italiana e di come essa si è comportata nei confronti anche del dibattito pubblico noi vediamo che il risultato e la politica di base è molto simile tuttavia lo si fa in maniera diversa quindi ora tornando appunto alla prospettiva più relativa allo strumento automatizzato io ritengo che prima di tutto sia necessario decodificare quelle che sono diciamo così certe aspettative nei confronti di tali strumenti per quanto riguarda la giustizia costituzionale per quello che riguarda insomma il mio punto di vista io non credo che possano essere considerabili come dei 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 ex machina mi verrebbe da dire come degli strumenti che risolvono i nostri problemi sia in in relazione alla alla prontezza di risposta da parte della corte costituzionale oppure nella nella semplificazione diretta di alcuni procedimenti che magari risulta macchinosa tuttavia se li si va a vedere in quella che è la prospettiva più tendenzialmente amministrativa e che attiene a ciò che non riguarda il diritto costituzionale in senso stretto ossia diciamo ciò che non vediamo tendenzialmente io ritengo che possa essere una soluzione quantomeno quantomeno valutabile ecco a cui però si deve necessariamente collegare e concludo con quello che insomma si definirebbe la la conclusione della favola l'insegnamento finale tuttavia con una visione che è molto importante e io credo che questo punto di vista debba andare a posarsi necessariamente su tutte quelle che sono le attività appunto che preparano la corte costituzionale alla gestione di un determinato caso che quindi non possa essere toccato da impulsi esterni che non venga gestito in maniera politica perché insomma ormai lo abbiamo visto negli ultimi anni ancora di più anche per quanto riguarda il referendum e su quello insomma si vedrà anche nei prossimi mesi cosa succederà tuttavia io credo che questi sistemi possano aiutare a lavorare davvero con la calma detto in maniera semplice il giudice costituzionale scevro da preoccupazioni di strumentalizzazione o di qualche intoppo che si potrebbe venire a creare nella fase preparatoria di quello che è il giudizio vero e proprio e forse se si riuscirà a trovare questa quadra riusciremmo sia a gestire quello che è il processo di riavvicinamento della corte magari al al tessuto elettorale più in generale alla popolazione e allo stesso tempo forse vedremo ancora in maniera più pronunciata una solidità e una lucidità che davvero potrebbe contraddistinguere la nostra giustizia costituzionale rispetto anche ad altri contesti grazie sempre nell'ottica il più possibile dialogica e anche per competenze mi sono permesso anche rispetto alla corte costituzionale di coinvolgere il professor Zichittu che insegna qui diritto costituzionale e che è un esperto anche di corte costituzionale così ti sentono anche quelli collegati ah giustamente perché io di solito ho un sacco di difetti tra cui quello che urlo per cui di solito mi si sente notevolmente dunque scontati i doverosi ringraziamenti sia ad Alberto per l'invito che ai promotori dell'iniziativa che è davvero encomiabile mi permetto di sviluppare alcune suggestioni che unificano gli ultimi due contributi nel senso che per quanto per quanto mi riguarda credo che la giustizia predittiva in senso lato o comunque l'applicazione dell'intelligenza artificiale in particolare al processo costituzionale ma delle considerazioni simili potrebbero essere estese anche al giudizio tributario non riguarda tanto l'aspetto decisionale faccio una distinzione processual costituzionalistica tra decisioni di merito e pronunce diritto ma dovrebbe riguardare più che altro gli strumenti di controllo in che senso l'intelligenza artificiale è uno strumento per arginare il cosiddetto creazionismo giudiziario delle corti nel senso che consente all'interprete e alla società civile di valutare gli scostamenti che la giurisprudenza costituzionale opera rispetto ai suoi precedenti più diretti in materia processuale l'ultimo decennio di esperienza costituzionale ci consegna una corte che direi quasi sistematicamente deroga alle proprie regole processuali cioè deroga alle regole del giudizio le fa entrare in bilanciamento con altri valori costituzionali questa deroga incide inevitabilmente sul principio di separazione dei poteri e sulle funzioni che sono istituzionalmente attribuite alla corte costituzionale per cui se il software predittivo ci consentisse di valutare ogni qual volta la corte si discosta dai suoi precedenti diritto perché deroga alle regole processuali ecco che c'è scatta una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli operatori del diritto da parte degli altri istituzioni e da parte della società civile rispetto a un potere che sta in qualche modo sconfinando e questo di per sé potrebbe anche non rappresentare un problema insormontabile qualora la corte in presenza di uno sconfinamento in presenza di una deroga processuale certificata dal confronto con i precedenti sia chiamata a motivare con maggiore precisione con maggiore rigore e con una attenzione più particolare anche alle implicazioni ordinamentali e non soltanto al caso concreto rispetto a quella decisione il che non vuol dire consegnare la pronuncia il merito della pronuncia alla macchina perché il giudice costituzionale è sui generis deve contemperare anche l'impatto delle sue pronunce in questo senso mi ricollego a quello che diceva lei cioè la corte costituzionale diceva il dottor Borghetti la corte costituzionale spesso considerando diciamo così l'impatto socio-economico che potrebbe produrre una declaratoria di incostituzionalità non lo fa la robin tax per dirne una ma la sentenza 10 del 2015 non pone un problema perché la corte in qualche modo tempera gli effetti della sentenza di accoglimento e quindi di fatto dice al ricorrente tu quella tassa non avrai il diritto alla restituzione ma diventa problematica perché si deroga completamente all'impianto incidentale delle regole del processo e allora se ci fosse un controllo automatizzato che sinotticamente compara la decisione processuale della corte con le regole del giudizio l'intelligenza artificiale svolge un ruolo che secondo me diventa insostituibile per valutare i rapporti tra poteri quindi io lo vedrei più che altro in una prospettiva interistituzionale credo di aver annoiato un po' meno tutti e quindi ciò grazie grazie allora magari con lo sforzo di stare nei termini se no Marta no no ma farei magari visto un evento secondo me così riuscito così denso di stimoli anche per chi ci ascolta eventualmente per i propri lavori di approfondimento non lo chiuderei sicuramente con le mie parole ma magari farei invitando però chi mi sta a fianco a essere veramente telegrafico magari a scegliere uno degli spunti che sommessamente vi lascio alla luce di quello che è emerso quindi darei solo farei solo darei solo tre indicazioni tre aree e poi vedete voi come intervenire telegraficamente lascerei la parola ai dottorandi le tre aree che mi sono segnato sarebbero infinite sono tutela misurabilità e anche visto che siamo qua direi università spiego subito mi sembra sia emerso un tema di tutela tutela dei diritti di fronte a questi scenari penso abbiamo sentito con Andrea Monesilio il tema di come ragione il giudice poi come posso impugnare la decisione che utilizza anche queste tecniche e poi non essendo del ramo ho studiato anche Antonio Borghetti ho letto e mi colpiva ce l'ha detto un po' nel suo discorso dal punto di vista tributario straordinarie possibilità straordinarie possibilità per combattere situazioni di evasione se ho ben compreso poi però cito lui in un suo articolo dice il contribuente deve capire l'algoritmo comprendere la razza sottesa allora questa tutela di fronte all'algoritmo mi sembra uno dei temi nel mio settore diritto processuale civile addirittura sia ad ombra che un ipotetico appello un ipotetica contestazione della decisione dovrà poi basarsi non tanto sul merito sul rito dell'applicato dal giudice ma dalla bontà dello strumento utilizzato dalla correttezza dell'algoritmo dei precedenti che sono stati utilizzati e quant'altro sembra un tema vasto e se volete anche problematico poi dicevo la seconda parola misurabilità perché mi sembra sia emerso che questi strumenti permettono in determinate aree di misurare di controllare citando il professor Zicchito nel suo ultimo intervento non riprendo l'interessante profilo che tra l'altro va a prendere il tema del rito del processo a livello di controllo di una decisione giudiziaria dicea della corte costituzionale potremmo anche estenderlo perché faccio una minima divagazione nel mio settore anche in materia anche in senso ampio per quanto concerne il rito il processo perché il professore parlava dell'area processuale anche nel nostro ordinamento la stessa corte suprema parla addirittura di stare decisis ma nel senso che la norma quando è procedimentale è bene interpretarla come una certa regolarità senza decisioni a sorpresa che rendono lo strumento inutilizzabile o poco gestibile da parte dell'utente e poi alla fine del cittadino scusate torno questo tema della misurabilità mi sembra che è diffuso anche forse negli altri interventi che ci sono stati anche lo stesso professor Varva parlando del rapporto di misurabilità non rispetto a una decisione giudiziaria ma all'autonomia privata diceva un'area precontrattuale che può essere totalmente libera se invece diciamo viene gestita con queste tecniche potrebbe introdursi un discorso di misurabilità di controllo e anche eventualmente di tutela magari solo a livello di perdita di chance in quel campo diciamo assunzione di eventuale dipendente ma chissà poi in quali altri scenari quindi dicevo tutela controllo misurabilità l'ultimo dicevo università perché siamo qua perché poi diciamo mi permetto siamo o saremo colleghi io preferisco darvi del tu nel senso che come lo do a tanti colleghi anche voi sarete chiamati a dare il vostro contributo e quindi a livello proprio di materie di tecniche di insegnamento di futuro in questa sede mi hanno colpito un po' di cose uno per esempio il ruolo dei principi perché in molti siete tornati anche a evocare principi rispetto alla tutela del contribuente ma poi l'articolo 8 dello statuto dei lavoratori quindi quanto è importante in quest'area così a volte nuova e difficile da gestire tornare anche ad avere chiaro determinati principi a passarli e poi mi domando anche e mi taccio quanto magari siamo indietro rispetto a quello che proponiamo a livello di insegnamento a livello di idee a livello di quello che vogliamo trasmettere e se non si dovrebbe iniziare anche magari con una politica dei piccoli passi che però sono anche in un certo senso rivoluzionari se penso a quello che si insegna anche qui non posso che fare un flash nella mia materia ma se non sono chiari certi passaggi del processo telematico oppure adesso vado un po' più in là se non spiego che in futuro ci potrebbe essere adesso perdonate la divagazione specifica magari un fascicolo unico che è molto diverso tra i fascicoli di parte a tutte delle ricadute anche sui documenti sulla dinamica impugnatoria mica da ridere se ho un unico fascicolo telematico dove posso gestire il materiale di causa se nel mio programma non ho anche questi piccoli passaggi che però sono anche rivoluzionari rispetto a come si insegna nella materia come potremo affrontare le sfide future che hanno appunto diversi livelli di approfondimento anche qui anche su questo tema è emerso perché abbiamo discettato di intelligenze artificiali e giudice e corte un conto è parlare dell'intervento della corte a livello anche qui mutuo delle parole che sono uscite a livello di gestione del procedimento un conto è ragionare sull'intervento di intelligenza artificiale sugli esiti quindi chiudo tutela il tema del controllo il tema anche di quello che vogliamo sviluppare a livello di insegnamento nel futuro magari nell'ordine e prendendo magari uno o due temi o le sollecitazioni che preferite farei un altro giro rapidissimo e poi chiudiamo grazie per queste sollecitazioni appunto veramente in maniera telegrafica rispetto al tema della tutela ma in realtà è un tema che interseca è una questione che interseca tutti i temi di cui lei giustamente ha parlato un elemento che non ho avuto modo di far emergere nella mia relazione ma che secondo me è centrale nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale per prendere decisioni che impattano sui diritti delle persone e che è più o meno quello di cui parlano in un modo o nell'altro tutti i nostri interventi secondo me è il tema della simmetria informativa nel senso che nel momento in cui viene utilizzato un sistema di intelligenza artificiale la parte che lo usa quasi intrinsecamente ha delle informazioni che l'altra parte non ha per esempio sul funzionamento di questo sistema sul fatto stesso che sia utilizzato nel caso che studio io almeno per il momento fin quando non entrerà in vigore non sarà direttamente applicabile il regolamento sull'intelligenza artificiale i datori di lavoro potrebbero anzi generalmente non sono interessati a far sapere al candidato che dall'altra parte dello schermo non c'è una persona in carne d'osso ma c'è un sistema di intelligenza artificiale da questo punto di vista quantomeno per quanto riguarda il rapporto di lavoro la tutela individualizzata la tutela individuale e quindi una tutela che si attiva per l'iniziativa della persona che è soggetta a queste decisioni che quindi potrebbe ricevere dei danni le decisioni sbagliate che la riguardano secondo me è un tipo di tutela poco funzionale che rischia di essere molto poco effettiva e la prospettiva che a cui guardiamo per prima nell'ambito del diritto del lavoro ma che potrebbe essere interessante in generale anche in altri ambiti per esempio per la tutela del consumatore è quella collettiva quindi bilanciare questa in parte questa simmetria informativa aggregando i soggetti bisognosi di tutela attorno a dei soggetti collettivi questo nel nostro campo nel mio campo è diciamo piuttosto facile anche se le regole di cui mi sono occupato e di cui mi occupo nel mio lavoro di tesi non sono pensate per il contesto del lavoro e quindi non fanno riferimento alle organizzazioni sindacali ma ci sono spazi in cui le organizzazioni sindacali se vogliono possono inserirsi però per altri ambiti potrebbe essere una prospettiva interessante vi ringrazio ancora visto che prima ho parlato in qualche maniera di misurabilità mi soffermo magari sulla tutela secondo me ci sono almeno per il momento troppi aspetti critici che portano a sconsigliare o anzi in realtà sono un po' più drastico a rendere inapplicabile questi sistemi di cui ho parlato all'interno del processo attribuendo di funzioni e decisori quindi giurisdizionali ne cito alcuni ma ne basterebbe anche soltanto uno secondo me pongono di problemi con il principio di motivazione motivazionale delle decisioni soprattutto quando si parla di sistemi di machine learning non si può ricondurre non si riesce a capire qual è l'iter logico argomentativo che queste macchine hanno utilizzato per fornire la risposta quindi già questo soltanto le renderebbe incompatibili con uno dei principi cardine costituzionali del processo non solo civile in generale che viene conosciuto come problema della black box quindi non si può scrutare dentro la macchina e capire come questa ragiona come questa argomenta un secondo problema è quello che prima ho accennato che è quello dell'esternalizzazione della funzione decisionale nel senso che ci sarebbe un discostamento dal giudice naturale precostituito per legge diventerebbe giudice comunque si attribuirebbero funzioni giurisdizionali a delle macchine sebbene in maniera limitata ma questo comunque è il concetto altro punto problematico è quello relativo al principio di indipendenza in che termini il principio che vuole che il giudice il potere giurisdizionale sia non sia influenzato da altri poteri dello stato qui addirittura se si permettesse l'utilizzo di questi sistemi si andrebbe ad influenzare il giudice o comunque ad assoggettarlo al potere privato perché questi software a meno che non vengano diciamo creati progettati da un ente pubblico quindi a livello statale ministeriale ad oggi perlomeno sono tutti quanti creati da attori privati l'attore privato ne sceglie le modalità di funzionamento lo crea lo progetta e quindi il giudice non soltanto non diventerebbe soggetto più soltanto alla legge ma se si conformasse alla decisione c'è il rischio che possa essere influenzato anche dal potere privato quindi ci sono molti aspetti in realtà che ne sconsigliano sotto il profilo della tutela giurisdizionale la possibilità di utilizzo non escludo però che possano essere in realtà invece utilizzati da attori privati ad esempio da avvocati per diciamo agevolare il lavoro di ricerca anche a fini statistici per conoscere l'orientamento di un foro piuttosto che un altro quindi questo creerebbe sicuramente molti meno problemi anche se non c'è da adagiarsi sopra ecco grazie dottor Borghetti allora io come spunto prendo la comprensione dell'algoritmo e parto da questa considerazione cioè per avere un sistema fiscale che funzioni noi dobbiamo considerare che non sia uno simoro il consenso all'imposizione i cittadini devono ritenere che l'imposizione sia giusta per poter far fronte in modo come dire efficace alla stessa ma non è un'innovazione mia stiamo parlando della magna carta libertà abbiamo avuto lo statuto albertino ma anche l'articolo 23 della carta fondamentale ci dice che il consenso all'imposizione mediato tramite i nostri rappresentanti è un elemento centrale comprensione dell'algoritmo consenso all'imposizione è evidente che però ci vuole una come dire come diceva Calamandrei ci vuole il fatto che tutti gli attori quindi contribuenti amministrazione finanziaria concorrano insieme perché altrimenti possiamo fare tutte le regole che vogliamo ma se non c'è il consenso sul risultato che questo algoritmo o questa intelligenza artificiale a cui questa artificiale porta non raggiungeremo il risultato di combattere questa piaga fiscale enorme che è la piaga sociale enorme che è l'evasione fiscale grazie dottor Paolanti sì cercherò di essere telegrafico rispetto appunto alla questione delle università e di come si erogano servizi insegnamenti vorrei giusto un attimo allargare velocissimamente il diciamo il punto di vista andandomi a ricollegare all'annotazione fatta in relazione all'algoritmo che è stato appunto creato dall'università di Buenos Aires io credo che questo esempio ci dimostri come magari appunto si possono ripensare metodi strade insomma cosa si fa effettivamente per veicolare la conoscenza e cosa fa parte di un determinato di una determinata materia ma questo più che altro ci dimostra che l'università come luogo di protezione e di creazione della cultura si deve diciamo così dimostrare leader anche in questo ambito deve cercare di alzare la testa e dare un'impostazione egemonica secondo me poi certo ci sono altri fattori sia questioni economiche organizzative quello è vero ma io credo che sia una questione proprio di mentalità per cui come università come grado massimo di istruzione bisogna a tutti gli effetti prendere le redini di quella che è la gestione di qualcosa di nuovo che viene creato e anzi bisogna anche prendere le redini di quella che è la continua formazione delle novità che vengono create insomma dalla conoscenza umana tutto qui grazie grazie gli spunti sono tanti non aggiungerei altro direi che possiamo chiudere così il lavoro di oggi vi aspettiamo speriamo ancora più numerosi vista anche oggi purtroppo la giornata un po' problematica per i trasporti vi aspettiamo ancora più numerosi domani per la seconda giornata di lavori grazie